bella a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video oggi siamo qua con un nuovissimo mod review di questa fantastica mod che è un deutzfar agroton 120 mk3 devo dire che subito ho notato queste texture belle ottime diciamo subito le notate qua mi ha puntato l'occhio qua sul cardano davanti che era fatto se ce la facciamo mi confondo sempre con questi tasti e diciamo che mi ha colpito questo che è fatto davvero bene qua abbiamo queste texture davvero fatte bene a parte vabbè sta scaletta qua che non credo sia così perché nelle mie diciamo almeno io c'ho un modello diverso come trattore reale ma non ha la scaletta diciamo bianca probabilmente ci sono dimenticati le texture e niente qua dietro abbiamo texture davvero fatte bene abbiamo diciamo qua queste luci qua poi non abbiamo i pulsantini perché non è che sollevi poi più così tanto perché non sì 120 cavalli però diciamo che io che il mio casa che ne ha 150 c'è il doppio dei pistoni ve lo giuro e niente abbiamo anche la possibilità del front load loader quindi del caricatore frontale e niente quindi dentro è fatto davvero bene abbiamo queste texture magnifiche qua vabbè totucci niente abbiamo il abbiamo l'ic quindi lo attivate con il tasto space possiamo aprire abbiamo la possibilità di aprire il tettuccio davanti quindi porta questa qua la finestra qua poi abbiamo il tettuccio sopra porta a destra porta a sinistra vetro dietro finestra dietro quindi niente quindi di altre cose non ne abbiamo comunque devo dire ottimo adesso se volete vi faccio anche vedere com'è il dirt perché ce l'ho già provato già testato e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro eccolo è fatto davvero bene complimenti ancora e niente quindi per questo breve mod review è tutto commentate iscrivetevi e lasciate un bel like ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao 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 ciao